salve a tutti ben ritornati sulla mini brun allora nello scorso episodio siccome è passato un bel po di tempo ragazzi scusate nel scorso episodio abbiamo messo allora no i miei miele no i miele l'ho messo io fu calma proprio l'ho fatto vedere abbiamo messo qua la fabbrica del miele abbiamo attivato le serre la terra ok r perfetto lattuga perché abbiamo visto che la lattuga rende di più ah sì abbiamo fatto abbiamo messo il capanno questo qui per le balle come possiamo vedere lì ovviamente i posizionamenti delle di tutte le strutture su un terreno più o meno irregolare ovviamente crea le scompiglie allucinanti e quindi quando andrete poi si va a togliere un edificio che magari non volete più qui ma lo volete in un'altra parte non è che viene rimessa a posto no quello rimane quindi niente abbiamo posizionato la come si chiama questa la vabbè la polgi balle della del dlc google abbiamo raccolto l'erba abbiamo raccolto l'orzo la paglia fatta di orzo ok adesso noi che cosa facciamo cosa facciamo la bella cosa prima cosa facciamo una bella cosa ok beh beh scusate il gioco di parola venghiamo questo no aspera non era p sì no era p costruzione demolisci mi devi davanti ai coglioni questo no sì ok questo questo vabbè questo non mi interessa sinceramente ok perfetto qua ci mettiamo tutte le arnie le arnie ok e ovviamente tutto il resto ce lo mettiamo in questo capanno qui almeno sta più al sicuro dobbiamo seminare dobbiamo prima mettere a posto coltivare questo termine coltivato posso il gioco da ok crescita di tutto fettilizzato che dobbiamo anche per utilizzare bene e qua ragazzi ci possiamo mettere ecco questa è un'altra cosa che combina quando succede quando andate a posizionare un qualsiasi posizionabile che prendiamo e qua c'era una strada bella che andava lì in farm purtroppo quando avrà se posizionato questo questo silo alto alto lord è sprofondato tutto non è rimasta la strada cioè nel senso come arrivato non è rimasto nel livello con cui stava prima no si è fatto questo cazzo di di dosso che è per me sarà anche l'impresa a posizionare il macchinario qua con l'editor ragazzi scordatevelo di usarlo come dovrebbe essere usato perché di una pazzie di una fate più danni che bene fate più danni che bene con l'editor vabbè comunque lasciamo perdere andiamo avanti questa è la botte del ok questo che cos'è la spargi spargi merda penso di sì questo è spargi merda spargi con cime ma siccome noi non abbiamo io direi a questo punto il cavallo questo qui ce lo rilascio ovviamente perché sì che si potrebbe sempre servirvi però questo qui via facciamo così facciamo così facciamo il liquame via grande vendi o vedete come bello accumulare un po di danaro perché perché questo potrebbe ci serve per tutto ci serve per tutto allora che cosa facciamo adesso abbiamo detto dovevo posizionare arnie e quindi possiamo le arnie facciamo qui costruzione animali api questo qui no io mi voglio girare ok il sovrappone a chi atto solo ok più o meno ma chi cazzo ah ok perfetto ragazzi questi sono tutti i soldi che poi riguadagneremo aspetta un po' aspetta un po' ok va bene ok va bene basta così qua ragazzi usciranno poi i pallet e non andremo a vendere con il bestione qua allora questo qui ok allora questo qua allora a questo punto vada posso posizionarlo semplicemente qui ok così ok così vabbè vai dove vuoi perché là devi andare perfetto eh senti io volevo fare le cose fatte per bene abbassare per non buttarla proprio a terra come se fosse un sacco di patate ma no i giocano meno per me vabbè comunque parecchie cose giocano per me eh vabbè comunque va bene va bene va bene allora allora noi possiamo farci stavo dicendo una bella missione andiamo a vedere un pochettino ok cioè avvolgi balle questa possiamo farla potremmo farla ok che cosa ci da che cosa ci serve wow è questo questi due non però possiamo usare la nostra ragazzi possiamo usare la nostra attenzione campo 5 17 coltivazione mietitura ragazzi noi possiamo prendere questi tre li possiamo prendere ok 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 presto no questi tre li possiamo fare e noi ce li facciamo ragazzi allora allora però io sono scemo non voglio prendermi questo vabbè sì posso prendermi anche questo tratto di qui perché noi praticamente tose e prato del campo del campo 2 poi avvolgi l'erba in balle per ottenere insilati porta le balle al mercante di bestiame è tutto quello poi avvolgi l'erba in balle per ottenere insilati porta le balle ok tutte e tre così sì perfetto perfetto quindi non devo rinranghinare né niente ok ok e allora facciamo così raga facciamo così ok perché il campo 2 dove vediamo un po' dove cos'era? ah no è passato vicino a trig ok però visto che siamo vicino a 15 e 17 io proprio vorrei di fare prima il 15 e 17 allora a questo momento eh sì facciamo così dai il 15 e 17 dai dai oh play scusate no aspettate perché ho preso questo? sono rincoglionito vabbè e poi ovviamente ragazzi poi dopo vado a prendermi anche in macchinario però questo qui il macchinario lo facciamo dopo perché è molto grande e mi serve spazio siccome qui non c'è abbastanza spazio da quello che ho potuto vedere per i macchinari è un po' un casinetta è un po' un casinetta allora questo lo facciamo un po' questo funziona sempre? sì grandi cose ok 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 allora facciamo un po' dei spezzi va bene eh 4 nastronze 4 nastronzeita sì lo so lo so lo so lo so vai ok eh ragazzi almeno facciamo un lavoretto ci facciamo un po' di soldi per quanto riguarda le balle abbiamo due alternative la prima a posto a me lasciare le cose i ciuffetti d'erba non mi piace ah lo stavo dicendo la prima è quella di andarci a credere un prestito per comprare un un cassone per le balle di da trasportare con il camion che si fa anche prima sinceramente seconda opzione chiedere un prestito sempre per un raccogli balle però non lo so e fa tempo ragazzi io mi finisco di di fare questo questo campo di tagliare questo campo e ci sentiamo tra pochissimo oh ragazzi sì ho finito di ranchinare di ranchinare sì di sì ho ranchinato anche per un po' ma purtroppo lo spazio è molto piccolo e quindi non si riesce a ranchinare molto bene come si vuole allora nel frattempo io raccolgo il primo carico bisognerebbe comprare un un raccogli un raccoglipaia un raccogli un raccoglitore un po' più grande ma comunque per il momento ci possiamo arrangiare allora si dovrebbe fare così così e così che non valerà sta raccogliendo? un paio di caglio perché? sta raccogliendo? non hai accesso a questo terreno eh ho capito però scusate è l'erba ora o la raccolgo con così e la metto nel cassone o la raccolgo con lì sempre quello eh no? no vabbè secondo il gioco no vaffanculo eh vabbè ho capito ma questa che cag... eh non fa le balle si fa le balle però 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 non le fa direttamente questa qui invece fa direttamente le balle ok va bene vabbè a questo punto prendiamoci queste e buonanotte e buonanotte prendiamoci questa dai la gowear questa qui marca come complicazioni ruote va bene vabbè compra vabbè e ci prendiamo anche i raccogli palle ovviamente carica palle addio dio santissimo aspetta però noi possiamo fare un attimo una cosa varie c'è qualcosa ecco qua aspetta però qual'era acqua ecco qui le balle autoload perfetto perfetto flatball extend flatball così no possiamo aumentare anche così extend in che senso ah che c'ha l'estensione a noi che ci frega compriamo questo ok vabbè allora vabbè ragazzi perché la prendere tutto dovremo andare e poi ci sentiamo dopo per la raccolta delle delle balle a questo punto va bene va bene va bene va bene allora passiamo no non ha bastato niente vai qui e vai vediamo scusami eh non fa il l'attivo caricamento automatico solleva con gli erba zero il contatore delle balle scusami non me aspetta aspettate un attimo voglio capire poi avvolgi l'erba in balle per ottenere insilati eh scusami un attimo eh ho capito il perché ho capito il perché allora torniamo qua dobbiamo comprare anche l'avvolgi cosa dove stava qua ecco qua avvolgitori vabbè quale prendo io vediamo questo dai no questo è troppo grande vediamo questo qua perfetto vabbè ho capito come funziona dai ok non era più facile come volevo fare io no eh gioco subito va bene va bene va bene allora ragazzi io porto tutta sta mercanzia di là perché si vado a concessionario anzi questa la posso la posso tenere anche qua tanto non mi non mi interessa sinceramente ok per il momento e poi si vede vado a concessionario vado a prendere tutto quello che mi serve per avvolgere le balle e tutto il resto e poi ragazzi ci vediamo qua dove andiamo ad avvolgere le balle nel celofan non è celofan ma è il nylon dovrebbe essere il nylon ok andando attivo il lambo ci vediamo fra pochissimo ok ragazzi ho preso il camion per con ovviamente il raccogli autoload per palle e vediamo un po' che se è vera sta cosa allora dovrebbe essere così ok dovrebbe essere così dovrebbe essere così non lo so vediamo vediamo ok assolutamente così perfetto allora io faccio questo affogcimento di balle di balle mi raccomando di palle un'altra cosa attiva scaricamento automatico z perfetto a me lo fa tutto lui evidentemente quella quella lì che ha che crea le balle e non non avvolge appunto nell'inline spero di non aver fatto un pessimo acquisto con quello ma dovrebbe essere questo sì dovrebbe essere questo le balle grandi dovrebbero essere queste qui vabbè poi li vedremo poi li vedremo a momento attuale avvolgiamo va bene ragazzi allora avvolgiamo l'ultima palla che ricordo siamo sul campo 15 e dice tosa il prato del campo 15 poi avvolgi l'erba in balle per ottenere insilati porta le balle al mercante di bestiano insilati a paese mio si fa così poi va bene ok come è fatto no jab break g apri il menu allaccia modifica ok scegli fotocamera attiva disattiva le qualità velocità ma questi si prende da solo e auto load da solo no non è auto load da solo ok ragazzi allora faccio così vado a fare un salto a prendere l'altro o magari vado a modificare questo non lo so adesso vediamo adesso vediamo ok ragazzi forse ci siamo forse ci siamo ok mi è passato praticamente modificare questo per trasporto balle semplicemente l'ho fatto in farm posso portarne più di penso che più di queste non ne posso portare giusto vediamo se mi avvicino all'altra mi sa di no eh no ok salve vada vada dovrebbe essere lì dovrebbe essere lì allora qui no sicuramente no sarà davanti allora ah è qua dietro y No, si sono Si sono accavallate le missioni ragazzi Porca merda Niente, proprio sto gioco non ce la fa proprio Vai, vai, scusami Stavo dicendo ragazzi, sto gioco proprio non ce la fa A funzionare come deve funzionare Non ce la fa Se prendete le missioni uguali Nel senso di, come in questo caso Si accavallano tutte e tre le missioni Adesso io a campo Cioè, guardate Non è possibile mai Se mi dà la possibilità di prendere tre missioni uguali Non mi puoi accumulare Una missione E facendola di fare per tutti Cioè, non esiste Ma non esiste Eh, questo è assurdo Questo gran candaro Sapete che cos'è il candaro? La latrina Ti faccio anche la Il drift Va bene? E non sto usando mod Ragazzi Nessuna mod Per quanto riguarda i lavori Poi veramente Quando fa così C'è da mettersi le mani Nei capelli C'è rimasta una balla Se non è valerato Messo Eccola lì Sembra che sia l'unica Giusto? Sì, ok Perfetto E beh Andiamo a farci l'ultimo carico Ok E adesso ragazzi Vediamo un po' qua Bene Bene Qua non è successo niente A campo 17 Che io non ho proprio messo mano Cioè Nel senso Le lavori lì Nel campo 2 80% E 79% Come io se fosse andato a lavorare Ma in realtà Io stavo facendo il campo 15 Che è fermo a 20% Vedete? Non mi piace questa cosa Non mi piace assolutamente Va bene ragazzoni Dai Da maggiori 84 è tutto Non ci vediamo al prossimo video Prima di commentare Quindi lasciate un like Iscrivetevi al canale Non ci vedete anche lo schifo Trovate come sempre Tutti i link a disposizione In descrizione Tra cui Il link Per quanto riguarda Le playlist Del canale Vi trovate tutto lì E Io mi faccio Il campo 17 E magari per la prossima volta Vi faccio trovare anche il campo 2 pronto Cioè nel senso che Ci troviamo lì A campo 2 E niente Ci vediamo Al prossimo video Ciao a tutti Ah per quanto riguarda Minecraft Giusto due secondi Non ho Non ho registrato ancora niente Perché non ho idee Quindi appena mi viene un'idea Per far qualcosa Soprattutto per quanto riguarda I cavan Degli attrezzi E altre cose che ci andranno Ovviamente vi farò Sapere E vi registrerò qualcosa Ok Noi ci vediamo Alla prossima Ciao a tutti Ciao a tutti